Il suo intento è quello di portare la Puglia nel mondo. Lara Urso dipinge a mano sui tessuti, sete e cotoni su cui disegni elementi rappresentativi della nostra terra. A Polignano la mostra simboli di luce. Laureata all'Accademia delle Belle Arti di Bari, esprime il suo talento attraverso simboli associati ad elementi luminosi. Dopo aver esposto i suoi quadri nelle più importanti gallerie italiane, adesso la pugliese Lara Urso è una delle poche artiste che realizza disegni a mano su tela rappresentativi della Puglia. A Polignano la sua mostra simboli di luce. Magliette artistiche, ma com'è nata questa passione? È nata quando ero una bambina, ho sempre disegnato, ho sempre dipinto, tanto che poi mi ho fatto l'Istituto d'Arte, poi l'Accademia di Belle Arti, mi sono laureata in decorazione e ho fatto sempre quadri, insomma i miei quadri sono di seta e quindi ho un'attitudine alla stoffa. E poi a un certo punto ho pensato che siccome volevo rendere fruibile l'arte a tutti, ho deciso di fare delle t-shirt artistiche per poter portare la Puglia nel mondo e quindi prendo dei soggetti della Puglia e anche quindi insomma faccio alberi o realizzo anche soggetti marini come insomma anche in questo caso ho fatto un cavalluccio e mi piace, la mia ricerca è anche sulla luce, quindi ho iniziato anche a incollare dei cristalli e poi amo il glitter, quindi tutto quello che luccica Oltre ad elementi rappresentativi della nostra terra, tu su queste magliette disegni anche degli elementi che trasmettono positività Sì, io adoro proprio il mandala che sono proprio portatore di energia positiva o anche sul discorso dell'occhio che spesso dipingo, infatti in questo caso ho una maglia con diversi occhi perché è proprio lo specchio dell'anima E invece questa donna? E poi mi piace proprio ironizzare sui visi particolari, su storie che invento di queste donne che gli uomini si innamorano di loro, ma sono sempre donne che scelgono loro chi amare e come gestire l'amore Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani